Anche nella pallanuoto femminile i colori della città di Napoli saranno difesi da una squadra di serie A1, la neopromossa Carpisa Yamamai Acqua Chiara, che ha conquistato nell'ultima stagione sportiva il passaggio di categoria. E per rendere merito al percorso sportivo delle ragazze guidate dal coach Barbara Damiano e dal presidente Franco Porzio, oggi a Palazzo San Giacomo l'amministrazione comunale ha accolto la squadra e lo staff tecnico per consegnare loro un premio a nome della città. L'orgoglio della nostra città, queste ragazze giovanissime che attraverso Acqua Chiara raggiungono la vetta della pallanuoto femminile, vengono anche da quartieri popolari della nostra città, quindi un doppio merito, quello di esserci, di partecipare, di crederci e anche di vincere. Anche attraverso lo sport c'è il riscatto della nostra città e Napoli diventa sempre più eccellenza nelle discipline sportive. Grazie a tutti.